Dopo gli ultimi innesti il mercato del Benevento vive una fase di stallo. Nella giornata di ieri il presidente Vigorito, rientrato dalle vacanze, ha incontrato il direttore tecnico Marcello Carli e l'allenatore Matteo Androletti per fare il punto della situazione. Le coppie sono composte in ogni ruolo e il Benevento, da cui a fine mercato, proverà ad innestare solo un attaccante che potrebbe fungere da sostituto di Moncini. Le entrate a centrocampo potrebbero sbloccarsi con le uscite di Teglio e Acampora, per i quali però il Benevento chiede cifre importanti. La difesa è a posto con il Jolly Viscardi, che fungerà sia da difensore centrale che da terzino. Intanto i giallorossi continuano la preparazione in città dopo l'amichevole col Giuliano. Due giorni fa la squadra ha giocato contro la primavera di mister Dario Rocco, ieri giornata di riposo e oggi ripresa degli allenamenti per preparare l'esordio del 3 settembre contro la Turris. Domenica 27, l'amichevole Almeo Martini contro il Picerno, squadra di pari categoria. Intanto prosegue anche la campagna abbonamenti. Sono 2378 le test restaccate durante la vendita libera, che si concluderà nel giorno precedente il primo match casalingo, quello dell'11 settembre, contro la Virtus Francavilla.